Ciao a tutti voi da Rosi, l'appuntamento della nostra vetrina dell'auto, oggi è in compagnia di Pirola, ci troviamo ad Esio, accanto a me Luca Busnelli e vi parleremo naturalmente di proposte per quanto riguarda vetture aziendali e anche chilometri zero, vero Luca? Esattamente Rosa, abbiamo riservato molte soluzioni anche per questo mese, nonostante i nostri 6-7 gradi sotto lo zero, siamo qua all'esterno ma le nostre promozioni sono veramente calde. Perfetto, speriamo che vadano al di sotto dello zero o comunque di certe cifre, anche i prezzi sono certi, perché prima ho sbirciato qualcuna delle tue promozioni e so che hai riservato qualcosa anche per chi dice che viene a nome della Rosi. Esattamente, abbiamo una grande promozione ma non voglio svelarvi nulla perché nel mese di marzo abbiamo soluzioni veramente importanti per chi viene anche a nome tuo, anzi soprattutto nome tuo a Rosi. Perfetto, quindi ricordatelo sempre, dite mi manda Rosi, ho visto la Rosi, ho visto la vetrina e avrete questo importante vantaggio. Ora andiamo a vedere le vetture Luca. Esattamente, iniziamo da questa vettura, chilometri zero, appena immatricolata, qui abbiamo uno sconto veramente importante, siamo intorno ai 28 punti percentuali, macchina veramente bella, perfetta con tutto, cerchio da 20 pollici, fari big seno, navigatore, bluetooth, pelle, cosa dire? Gli manca solo cambio automatico. Cambio automatico, cilindrata? Una 3.000 3.000, ok, perfetto, io ti faccio qualche domanda come se fossi il telespettatore che al di là del teleschermo, 28% di sconto rispetto al prezzo di listino, importantissimo. E questa? Disponiamo di vari modelli, una Touran, sono tutte 1.06 di cilindrata, il prezzo, fatelo voi, ma sicuramente è più alto di quello che dico io. Posso dirvi veramente, Rosi, che partiamo da 23.100 euro, macchina da 35.000 euro. Perfetto, e ricordo sempre, chilometri zero. Questa è una 2017, ma può essere anche una 2018 perché ne abbiamo più di una. Perfetto, perfetto, quindi vi ha lanciato anche la sfida, Luca, dicendo che voi probabilmente direte un prezzo più alto, meglio di così. Passat, disponiamo vari modelli, vari colori, berlina e station, quindi possiamo accontentare un po' tutti, quindi cambio manuale, cambio automatico. Abbiamo un forte sconto da listino, siamo intorno anche su questa macchina intorno al 30 punti percentuali. Macchina veramente full, ricordo anche che siamo in grado di dare quattro anni di garanzia, possiamo estendere fino a sei anni, quindi direi... Una sicurezza assoluta, assoluta. Poi parleremo anche di formule particolari per l'acquisto anche di Passat. Magari dopo ci torniamo, vuoi dirlo adesso? No, dopo, dopo. Dopo, allora continuiamo con la presentazione. Disponiamo anche di Gol Variant, benzina e turbodiesel, vari modelli, vari colori, chilometri zero, macchina appena immatricolate, allestimento business, quindi medio di gamma, ma veramente accessoriata. Quanto vogliamo pagarla? Un prezzo? Ve lo dico io. Partiamo da 19.000 euro per una fantastica Gol Variant, che la puoi usare tutti i giorni, ma è una station ottima. Ricordiamo che con un 1.200 benzina facciamo mediamente i 16-17 con un litro, è un turbodiesel, mediamente siamo a 20 km con un litro. Perfetto, è una macchina anche per la famiglia, perché insomma è abbastanza contenuta, ma ha uno spazio interno veramente molto molto ampio. Esattamente. A partire da 19.000 euro. E invece proseguiamo con? Golf, benzina e turbodiesel. Abbiamo tutta la gamma, quindi anche il neopatentato, che vuole prendere una vettura da grandi, ma con una cendrata diciamo piccola. È sempre amata la Golf, e anche dai neopatentati. Abbiamo questa fortuna. C'è anche il golfista, Rosia. Certo, è una passione. Esattamente. Anche su questa abbiamo vari modelli, vari colori, e abbiamo un prezzo piccolo così che dopo vi illustrerò. Va bene, perfetto. Ritorneremo anche su questa vettura per quanto riguarda i prezzi. Polo. Polo. Polo, abbiamo tutta la gamma, vari modelli, vari colori, benzina e turbodiesel. Ricordiamo che un turbodiesel mediamente fa i 22 chilometri con un litro, 23. Dipende dall'utilizzo, ma un consumo medio. Quindi sono consumi molto, molto bassi. Abbiamo anche versione metano su questa macchina qua. Ne abbiamo una sola. Bene, se volete risparmiare ancora di più, consumare ancora meno, bene, anche una versione a metano praticamente sono introvabili. Esattamente. Già attaccate a chilometri di zero. App, la piccola. La nostra piccolina, che è piccola solo nelle dimensioni, ma è veramente grande, perché abbiamo radar frontale, sensore di parcheggio posteriore, bluetooth, porto USB, presa aux, veramente tutto l'infotainment dell'ultima generazione. Che di solito non si trovano su macchine così contenute come dimensioni, quindi veramente una grande macchina. È solo piccola con le dimensioni, Rosi. Solo piccola con le dimensioni, ma è un'auto veramente confortevole e la puoi usare sia in città che in uso ex urbano. Perfetto. Se dovessi acquistare una macchina di questo genere, so che hai una proposta, giusto? Esattamente. L'anticipo non lo vogliamo. Niente anticipo. Esattamente. Oppure se volete dare un anticipo, se lo volete fare, potete farlo con la vostra permuta, ma consideriamo di non avere nessun anticipo da dare. Esattamente. Considerate che abbiamo una micro rata. Ebbene sì, possiamo darvi app da 218 euro al mese, con incendio e furto compreso nel prezzo, e possibilità di avere garanzia anche oltre due anni. Più la tua promozione, Rosi, quando verranno i nostri clienti che ci chiameranno. Quindi dite di aver visto la trasmissione alla vetrina dell'auto per avere questo importante vantaggio. Lo scoprirete solo arrivando qui, ma vi assicuro che è importante. Quindi, zero anticipo, rata a partire da 218 euro al mese, con anche incendio e furto. Insomma, cosa volete di più? Ed ora andiamo a vedere le proposte anche per le altre? Esattamente. Luca, interessantissima la proposta su App, ma se avessi bisogno di una vettura un po' più grande, quindi di Polo? Siamo all'incirca con lo stesso prezzo, più o meno. Partiamo da 299 euro al mese per avere una Polo. Quindi anche in questo caso, un minimo anticipo o zero anticipo, erate a partire appunto, come avete sentito, veramente piccolissime. Ed ora andiamo a parlare anche di altre vetture. Ultima cosa, incendio e furto sempre compresa. Ah, ok. E questo è anche importante, è una spesa in meno per voi, viene spalmata dentro questa rata e quindi non ci pensate. Zero pensieri. Zero pensieri. Luca, qui stiamo leggendo il nome Das Welt Auto e parliamo di usato, di qualità e quindi garantito. Adesso ti darò la parola. Naturalmente noi stiamo vedendo solo vetture a chilometri zero in questo caso, ma voi avete anche tante vetture d'occasione sulle quali date una garanzia importante. Certamente, Rosi. Abbiamo vetture con un chilometraggio massimo di 90.000 chilometri e 7-8 anni di vita massimo. Garanzia di un anno, due anni, oppure possiamo arrivare fino a quattro anni. E poi queste vetture vengono appunto sottoposte per avere modo di avere questa garanzia a 110 controlli tecnici. Come vedete, ecco, lo leggete qua, test live, per un'altra dell'usato. Insomma, ci sono tantissimi, tantissimi, tantissimi vantaggi per voi che acquistate un usato garantito da Das Welt Auto. Per cui, oltre che le chilometri zero e le aziendali, venite qui anche per questo usato. Ricorderei solamente chilometraggio certificato. Certo, importante. Quindi abbiamo la cronologia della vettura. Tutta la sua storia. Perché la cosa importante di ogni macchina è la sua referenza. Non compriamo macchine dove non abbiamo una garanzia vera. Questa è una grande garanzia. Perfetto. Assolutamente molto, molto importante. Ed ora lasciamo Das Welt Auto e andiamo a parlare ancora. Ritorniamo su due vetture che sono indicate per la famiglia o per il lavoro. Quindi parliamo di Golf Variant e di Passate. Parleremo anche di rate. Esattamente. Qui possiamo avere Golf Variant con rate da 299 euro al mese. Anche in questo caso, quindi una rata veramente molto piccola. Poi dite sempre che vi manda Rosi perché c'è un vantaggio. Poi lo scoprirete naturalmente nel cilindro magico. Vi farò vedere il cilindro e cosa porterà la prossima volta. Perfetto. Quindi Golf Variant avete sentito naturalmente la rata. Adesso parliamo di Passate. Disponibilità, avevi detto prima, sia Berlina sia Variant. Ce la descrivi un pochino? Esattamente. Perché sono super accessoriate. Sono macchine che hanno radar, mediamente chi più chi meno, dipende poi dall'allestimento. Certo. Navigatore, Bluetooth, la porta USB, la presa AUX, quindi l'infotainment principale. Il cerchio in lega da 17 pollici, interno misto o tessuto, dipende poi dall'allestimento. Ma mediamente sono vetture quasi tutte accessoriate perché sono nostre. Certo, sono veramente grandi vetture. E qui ho visto prima che addirittura ci possono essere delle rate da 284 euro al mese. È chiaro che dipende poi dall'anticipo che darete. Magari avete una permuta da dare che può essere considerata l'anticipo. E poi naturalmente deciderete. Secondo me deve essere costruito su misura come un vestito questo. Per cui, per sapere quella più adatta a voi, la rata più adatta a voi, venite qui a parlarne con Luca, con gli altri collaboratori. Sono qui. Esattamente. Un saluto a tutti da Alessandro, Pirola e anche Audi, Audi Adesio, Via Nuova, la Sina 129. Questa sera vogliamo parlarvi della possibilità di acquistare una vettura senza anticipo. Tra le varie formule finanziarie e non, quello che è più in voga è la possibilità di acquistare una vettura con o senza anticipo, avendo in un unico canone l'assicurazione casco, la manutenzione, il cambio gomme. Stiamo parlando di noleggio lungo termine. Qua di fianco è un Audi A3, vettura che supera il listino di oltre 30.000 euro, che può essere acquistata con un canone di noleggio lungo termine a partire da 199 euro. Questa possibilità può essere estesa a tutta la nostra gamma. Pirola ha un ufficio di piccole e medie imprese strutturato per trovare la soluzione personalizzata per l'acquisto di una vettura con questa nuova formula. Da quest'anno c'è la possibilità di acquistarla con noleggio lungo termine anche per tutti i privati. Quindi venite qua, vi facciamo vedere quello che abbiamo a disposizione. A questo punto, in funzione della rata che andiamo a strutturare, potete acquistare una vettura magari anche di un livello superiore. Audi A4 a partire da 399 euro. Quindi, ricapitoliamo. Varie formule finanziarie personalizzate. La possibilità di acquistare una vettura senza anticipo. Stiamo parlando di noleggio lungo termine. Un canone che racchiude la parte finanziaria e una parte dei servizi. Nel servizio abbiamo la possibilità di includervi la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'assicurazione casco, il pagamento della tassa di proprietà, ma soprattutto anche il cambio delle gomme da estive invernali. Quindi, in un unico canone, zero pensieri, voi avete la possibilità di acquistare delle vetture da 30, 40, 50 mila euro, senza anticipo, e pagando un unico canone che parte addirittura da 199 euro. Io sono Alessandro, vi aspetto nella nostra concessionaria di Via Nuova, la Sina 129. Tenete presente che abbiamo la possibilità di offrirvi il test drive di tutte le vetture che abbiamo esposte. Quindi, strutturiamo l'offerta finanziaria migliore per voi e poi andiamo a provare la vettura su strada. Un saluto caro a tutti. Grazie. 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 Grazie.